L'Argentina passa ai quarti di Coppa America, ma che fatica per battere il Qatar. Quella che doveva essere una mera formalità si trasforma in un'imprevista sofferenza, nonostante un errore del centrale difensivo avversario, Al Rawi, spiani la strada al vantaggio di Lautaro Martinez dopo soli quattro giri di lancette. Al di là di tutto Messi e compagni si salvano per effetto del contemporaneo successo della Colombia che sconfigge di misura il Paraguay garantendo la qualificazione all'Albi Celeste. Il raddoppio che chiude i conti porta la firma di Agüero ad otto minuti dal novantesimo. Pur conseguendo l'obiettivo i calciatori allenati da Scaloni danno l'impressione di essere stanchi ed abulici, per molti di essi davvero le brutte copie ammirate nelle squadre di club Messi incluso.